E' grande successo di pubblico ieri mattina in centro a Fano per la presenza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e Daniele Pesco accompagnati da Gianni Maggi e dai candidati consiglieri della provincia di Pesero e Urbino Durante l'incontro sono stati affrontati diversi argomenti come la sanità, la gestione del bilancio statale e regionale, il reddito di cittadinanza, l'immigrazione, la scuola e altri ancora Come soluzioni i grillini hanno un denominatore comune, lotta alle mafie e alla corruzione